L'apertura della questura di Andria è indirittura d'arrivo, lo ha confermato ai nostri microfoni il prefetto della BAT Valiante ieri sera a margine dell'incontro sulla situazione della sicurezza tenuto a Margherita di Savoia dopo l'omicidio del 26enne trinitapolese Antonio Palmitessa. Poche ore prima era stato il sottosegretario del Ministero dell'Interno, il pentastellato Carlo Sibilia a comunicare che a giugno la sede di Via Indipendenza sarà operativa. Il passaggio precedente dell'onorevole Sibilia sulla questione era stato il 28 settembre 2018. La realizzazione della questura era ieri, è evidente che io penso che sia serio per tutti non andare oltre la fine del 2019 per essere realisti. Ma giugno 2021 potrebbe essere effettivamente il momento in cui la provincia BAT sarà finalmente dotata della sua questura. Dall'istituzione della nuova provincia saranno passati esattamente 17 anni. Si lavora adesso febbrilmente per non superare quella data. Si tratta di rendere operativa la nuova sede che di fatto è già pronta. Sulla questura ci siamo nel senso che c'è stata la consegna del bene, ora c'è un'intensa attività per renderla operativa perché c'è la necessità di allestire organizzativamente, quindi con centralino, sale operative, impiantistica e quindi siamo in procinto di ci siamo. Un presidio di sicurezza necessario per mettere un argine alla criminalità. La BAT è in mano alle mafie. Ha tuonato nei giorni scorsi il procuratore capoditrani Renato Nitti, dichiarazioni che hanno fatto rumore e che forse sono all'origine della spinta finale verso l'apertura della questura. Diventa un momento fondamentale, una fase cruciale, importante per la provincia. Consentirà di completare l'architettura della sicurezza a livello provinciale.